La seconda parte di Satinpunto, come vi avevo annunciato, parleremo ancora di terraferma veneziana e lo facciamo con Antonia Rambelli, presidente dell'Associazione Allagati Veneziani. Buongiorno e benvenuta. Grazie. Affrontiamo di nuovo la questione piove, piove tanto, dissesto idrogeologico. Voi che magari ci ascoltate potrete dire, vabbè, ma le situazioni più pesanti si verificano in provincia di Padova, abbiamo visto nel Trevigiano con anche la tragedia di Affrontolo, non ci risulta che ultimamente nella terraferma veneziana ci siano state situazioni critiche. In realtà il veneziano, anche se magari verso il Veneto veneziano, quello orientale, di allagamenti nelle piogge intense che ci sono state durante questa estate particolarmente bizzarra, in realtà si diceva appunto la terraferma veneziana, quella ridosso della città lagolare, non ha risentito particolarmente. E allora uno dice, ma perché allora hai invitato la Presidente degli Allagati Veneziani? Lei ha scritto qualche giorno fa una lettera di fuoco, dove punta il dito nei confronti del commissario, Vittorio Zappalorto, commissario del Comune di Venezia, che si starebbe disinteressando Tucur di Mestre della terraferma. Cioè, nello specifico perché ha scritto questa lettera? Visto che non sembra esserci stata un'emergenza in quest'estate, se è vero quello che sto dicendo. Allora, è vero. Nella estate e nelle prime giornate di settembre non ci sono stati fenomeni così evidenti da creare allarme. Però, circa dieci giorni fa, i nostri colleghi di Marghera hanno avuto acqua per strada, circa 20 centimetri, in zone che erano così imprevedibili da un certo punto di vista, però hanno avuto questi allagamenti. Quindi è un fenomeno che non è stato diffuso su tutta Mestre, però nel territorio noi sappiamo, per esperienza purtroppo, che la poca e concentrata precipitazione, se viene ad essere un po' più lunga del quarto d'ora, dieci minuti, un quarto d'ora, sicuramente allaga, perché non ci sono predisposizioni. C'è la laguna, ma non c'è neanche una predisposizione adeguata a ricevere una quantità d'acqua e, soprattutto, a smaltirla in maniera efficiente. Le immagini che stiamo vedendo, che gentilmente il regista Andrea Verniero stava andando in onda, sono riferite al 26 settembre 2007, che per i mestrini e per gli abitanti di Marghera è una data che equivale quasi a quella dell'alluvione del 2010 per il resto del Veneto, vero? Cosa è successo al 26 settembre? Allora, in sostanza, 100.000 persone sono andate sott'acqua. Io dico sotto acqua perché dire sottofogna è una cosa che spiace, però è vero. In quel caso è stata l'acqua che è risalita dalle fognature che ha allagato Mestre. Allora, se a Refrontolo è arrivata acqua dalle zone alluvionali alte, quindi fango, purtroppo noi siamo in pianura e abbiamo, quando esonda e quando esce la fognatura, lascio immaginare che cosa può succedere. Ma anche a livello sanitario, ecco qual è la nostra preoccupazione. Perché in sostanza, se si trattasse di acqua, il fango è una cosa grave di suo, ma se si trattasse di acqua, tutto sommato, ma noi andiamo sottofogna. Ed è una cosa che a livello sanitario credo che allarmerebbe chiunque. Cioè sarebbe veramente una cosa. Allora noi... Voi siete nati, mi scusi questa digressione, siete nati con questa vicenda? Sì, la storia è semplice. Cioè noi avevamo una serie di comitati che erano nati in quel periodo lì, ma già dall'anno precedente avevamo avuto un'altra alluvione nel 2006 e già per un anno si era lavorato. Poi otto comitati hanno pensato bene di strutturarsi in un'associazione che è riconosciuta a livello comunale e regionale ed ha quindi tutta l'autorità, da un certo punto di vista, di interessarsi di queste cose. Teniamo presente che sia lo statuto di Venezia, della comune di Venezia, sia gli statuti regionali, sia la legge della protezione civile prevedono che le associazioni abbiano voce in capitolo da questo punto di vista. Nel senso che sono portatrici di esperienze, di contatti con i cittadini, ma anche di innovazioni. E a questo punto io... Voi come associazione allagati veneziani avete presentato anche dei progetti, se non sbaglio. Noi abbiamo elaborato un sistema, brevettandolo fra l'altro, perché è veramente una cosa innovativa. Quindi non è un comitato di cittadini arrabbiati, ci sono anche delle competenze di alto profilo. Noi abbiamo un settore tecnico che ci segue ed ha soprattutto lo specifico compito di seguire, monitorare e soprattutto tentare di dare una mano, perché noi come associazione vorremmo dare una mano. Questa è la nostra finalità. E abbiamo appunto studiato questo sistema che tombino per tombino riesce a dare innanzitutto la sicurezza per vietà della rete fognaria. Dà la possibilità di fare delle ispezioni approfondite e questo definitivamente, cioè senza che si debba poi reintervenire altre volte. Oltretutto è anche un risparmio. Diciamo che io non sono la persona più adatta. No, no, ma così usiamo una telecamera. Ma è praticamente, sono delle telecamere che sono state studiate appositamente, messe su un sistema mobile, che quindi può raggiungere direttamente il tombino ed ha la possibilità di essere molto efficiente e veloce nell'esecuzione del lavoro. Quindi con una minima spesa si riesce anche a dare un ottimo risultato. Questo progetto è stato accettato perché la lettera di fuoco contro il commissario Zappalorto, ma questo progetto non è di quest'anno. Quindi l'avete presentato, è stato recepito, è stato applicato? Allora, il progetto è stato definitivamente brevettato circa sei mesi fa. Noi abbiamo più volte chiesto di essere ascoltati e a questo punto, stanchi anche di dire sempre le stesse cose, abbiamo deciso di chiedere voce alla stampa, chiedere voce a voi e vi ringraziamo per questo. Perché? Perché a questo punto, oltre a Venezia, noi siamo decisi a dare la nostra disponibilità a tutti i comuni, perché le reti fognarie hanno dei tratti comuni per tutte che possono avvantaggiarsi di questo nostro sistema. Quindi lo offriamo ai sindaci, lo offriamo a tutti chi volesse eventualmente avere notizie su questa cosa. Abbiamo spiegato perché oggi Antonia Arambelli è qui ospite da noi in trasmissione ed è anche il motivo per cui è impossibile il dialogo con il commissario questa lettera che è stata pubblicata dal Gazzettino l'8 ottobre 2014. Quindi voi, dopo anni di studio, di prove, di messa, di brevetto, avete questo bel regalo, se così si può definire, ma non regalo, insomma idea, perché poi sarà il comune che vaglia la funzionalità, l'efficacia e non siete stati neanche ricevuti. No, diciamo che speriamo nelle prossime settimane di avere la possibilità di essere sentiti e soprattutto, ripeto, noi daremo voce a questo, cioè diamo a questo progetto, lo mettiamo a disposizione di tutti. Chi ci vuole ascoltare? Questa è una provocazione contro il comune di Venezia? No, è una presa di posizione ben precisa però, perché c'è anche un altro aspetto e qui bisogna essere molto chiari sulle cose. Allora, attualmente ciascuna casa che ha avuto degli allagamenti o che sia in un territorio a rischio, signori, perde di valore. Questa è una cosa che purtroppo bisogna dirlo. Da per tutto. Io invece penso che ciascun proprietario abbia, come mi pare stia succedendo abbastanza frequentemente, pensato, facciamo un'ipotesi, ad un'assicurazione sulla propria casa. Però, quale assicurazione non è aggravata da una mancanza di struttura che invece sarebbe gestibile e opportuna a livello comunale? Lei vuol dire che a fronte di una casa che magari è in una posizione dove c'è una taverna, un rischio di allagamento, magari per assicurarti rischi di dover pagare una polizza superiore a quella che invece è un sistema. ma... Grazie.